Mezza buffina La prima batteria Quando parte la prima batteria No, in teoria va la finale, quindi c'è tra mezza La prima batteria Campana di meno 22, prossimo giro di eliminazione 60 Niente eliminazione al passaggio Meno 21, quindi solo al passaggio Questa è la campana di meno 20, prossimo giro si elimina I pattini? Ma André, mamma che ce ne sono due staccati 3, 3, 5 Mezza però eh, non intera Dalla setta Campana di meno 18 Ma ci sta arrivando? Ma è sempre uguale Sì, ma la prima batteria mi ha visto un po' peggio Ah, è André! L'ho uno staccato! Gia! Di faccia quello lui sta mangiando L'iminazione al passaggio 220 No, non ha fatto il giro prossimo Dovete andare su adesso Dovete andare su Campana di meno 16 C'è un po' peggio C'è un po' peggio Ma tutti gli sei ultimi Invece di dirgli Perché anche questo Lui vive andare su seconda perga posizione No E' uno staccato! Non mi confesso! L'iminazione al passaggio Si diverte di più Beh, ci sono quelli che sono 3, 3, 2 Si divertono così C'è un po' peggio 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 Vai André, vai! Campana di meno 14 Campana di meno 14 Campana di meno 14 Campana di meno 15 Campana di meno 15 Campana di meno 14 Campana di meno 15 il numero 80 bravo cosi rimani dentro ok uno staccato 3,2,8 reggi, reggi, sono due dietro 2,3,6 4,2,8 3,2,8 3,2,8 3,2,8 3,2,8 bravo vai ok 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti.